le subordinate completive o sostantive. Fermiamoci adesso sulle prime due, la soggettiva e l'oggettiva. Osserviamo l'esempio soggettiva. È opportuno il rinvio della riunione. La parola rinvio è il soggetto del verbo è opportuno. Ora la trasformiamo, questo rinvio, in una frase. È opportuno, lo lasciamo. Che la riunione sia rinviata. Quindi ho trasformato la parola, il nome rinvio in una verbo. Avrò quindi una principale, è opportuno, che regge una subordinata soggettiva di primo grado esplicita. Che la riunione sia rinviata. Quindi possiamo dare a questo punto la definizione. La subordinata soggettiva è quella frase che svolge la funzione di soggetto del predicato presente nella frase reggente. Per essere così, quindi, la reggente deve avere dei verbi impersonali, come sembra, occorre, pare, eccetera. Oppure dei verbi che si trasformano in impersonali, perché vengono messi alla terza persona singolare e preceduti da si. Si dice, cioè qualcuno, in maniera indefinita. O ancora delle locuzioni, diremmo, delle costruzioni impersonali, formate dal verbo essere, sembrare, parere, con un aggettivo o un avverbio. Facciamo un esempio. Sembra necessario, è bello, è ora, e così via. Le subordinate soggettive possono avere la forma esplicita quando il loro verbo è di modo finito, introdotto dalla congiunzione che. Facciamo un esempio. Sembra, principale, che il tempo migliori. Si dicono implicite se invece hanno il verbo al modo infinito, preceduto o meno dalla preposizione di. Mi sembra di non aver dimenticato nulla. Mi sembra sempre la mia principale, di non aver dimenticato nulla è una subordinata soggettiva implicita. L'oggettiva, domanda. Vediamo ancora una volta un esempio. I professori vedono la tua preparazione. La tua preparazione è un complemento oggetto, composto da un nome e da un attributo. Ricordiamo che il complemento oggetto risponde alla domanda chi, che cosa. Lo trasformiamo adesso in una frase. I professori vedono, che è la mia principale, che sei preparato, che è la mia subordinata oggettiva esplicita. Diamo quindi ancora una volta la definizione. La subordinata oggettiva svolge la funzione di complemento oggetto rispetto al predicato presente nella reggente, quindi risponde alla domanda chi, che cosa. La subordinata oggettiva dipende da verbi detti enunciative, ciò che dicono, dire, raccontare, negare. Verbi che indicano una percezione, una sensazione, il ricordo, ricordare, sentire, vedere. Verbi cosiddetti estimativi, cioè quelli che possiamo tradurre come ritenere, credere, pensare. Verbi che indicano una volontà, un timore, una speranza, quindi ad esempio ordinare, comandare, desiderare, sperare, temere. Ancora una volta l'oggettiva può essere esplicita o implicita. L'oggettiva è esplicita quando ha il verbo al modo finito, introdotto dalla congiunzione che. Ad esempio, mia moglie sostiene che uso troppo il pc. Oppure implicita se il verbo è al modo infinito, preceduto o meno, dalla preposizione di. Esempio, mi sono accorto di non avere l'ombrello. Se il predicato della regente quindi è impersonale, la subordinata è una soggettiva. Si dice, sembra, pare che il clima stia cambiando. Se il predicato invece della regente ha un soggetto che può essere espresso ma anche sottinteso, la subordinata che la segue può essere una oggettiva. Tutti dicono, vediamo soggetto tutti, dicono, predicato verbale, che cosa che il clima sta cambiando. Ecco che abbiamo una subordinata oggettiva esplicita. Ricordiamo anche una cosa importante, i verbi servili e frasiologici costituiscono un unico predicato con l'infinito che accompagnano, quindi non reggono una subordinata oggettiva. Domani devo andare dal dentista. Cercherò di studiare di più. Se le proposizioni soggettive o oggettive dipendono da una regente, il cui verbo indica invece un dubbio, non una certezza, in questo caso vogliono il verbo al modo congiuntivo. Ad esempio, si pensa non che tu sei simpatico, ma siccome il verbo della reggente è pensare, che non è quindi una certezza, dovremmo usare il congiuntivo. Si pensa che tu sia simpatico. Io credo che Giacomo sta meglio. È sbagliata questa frase. Io credo, quindi non ho la certezza, che Giacomo stia meglio al congiuntivo. Grazie. Grazie. Grazie.